Allora mi presento, sono Nicoletta Sante Osani e sono dell'Università Pestranieri di Perugia. Abbiamo partecipato ad un progetto FEI gestito dalla Regione Umbria in cui era coinvolta l'Università Pestranieri per la formazione degli insegnanti e la realizzazione di materiale didattico. Il materiale didattico era per rendere accessibili i contenuti dei 5 video che sono stati pensati dall'accordo di integrazione per i neo arrivati. Nel momento in cui abbiamo cominciato a lavorare abbiamo scaricato il materiale, abbiamo visto i 5 video e abbiamo individuato i contenuti relativi agli argomenti di formazione civica che dovevano essere presentati. In un secondo momento abbiamo cercato di rendere accessibili questi contenuti attraverso la realizzazione di attività didattiche che in un qualche modo facilitassero la comprensione di testi, aiutassero gli studenti a memorizzare un certo tipo di lessico specifico che è presente in argomenti abbastanza complessi che riguardano la sanità, la scuola, la costituzione, il lavoro eccetera. E poi abbiamo fatto in modo che gli studenti potessero reimpiegare questo tipo di lingua, questo tipo di lessico. Il materiale è stato concepito inizialmente per un lavoro autonomo ma è stato molto apprezzato dai docenti dei CTP per cui a questo tipo di materiale sono state aggiunte anche delle attività di produzione orale da poter poi reinserire e riutilizzare anche in classe. Quindi è materiale pensato per lo studente con delle soluzioni, delle trascrizioni, degli ascolti ma anche poi materiale da utilizzare in classe dai docenti. Sono cinque moduli, sono moduli che sono presenti all'interno del sito della Regione Umbria sotto il progetto di refare e comunicare che è il progetto FEI proprio gestito dalla Regione Umbria in questo anno, l'anno 2012. Grazie a tutti. Grazie a tutti.